A distanza dei dieci giorni dalla prima visita nel corso della quale annunciò lo svuotamento dai migranti dall'isola, il presidente del consiglio Silvio Berlusconi è tornato a Lampedusa per verificare e fare il punto della situazione. L'aero del Premier è atterrato all'aeroporto lampedusano intorno alle 15, all'attenterlo il sindaco delle Pelagie Bernardino De Ruppeis, il prefetto di Palermo Giuseppe Caruso, quello di agrigento Francesca Ferrandino. Un ritorno il stuo per salutare l'isola liberata, anche se i trasferimenti avvenuti con le navi in settimana non sono serviti a centrare l'obiettivo. Nelle ultime 24 ore sono arrivati circa mille migranti. La visita di Berlusconi, iniziata con una riunione con le autorità locali e vertici delle forze dell'ordine, è proseguita con un giro dell'isola. Una tappa al mole al caffè storico del paese, dove ha gustato un gelato, poi ha visitato la collina della Vergogna, occupata per giorni da centinaia di tunisini. Nella base militare Loran, l'incontro con i giornalisti. Siamo stati di parola, ha detto il Premier. Tra una settimana inizieranno gli spot per far vedere i fontali di Lampedusa. Siamo pronti per portare al Consiglio dei Ministri la candidatura di Lampedusa per il Nobel per la pace. Posso testimoniare anche per avere personalmente constatato che il piano che avevamo annunciato nella mia prima venuta ha trovato attuazione. Poi il Presidente del Consiglio ha raggiunto la spiaggia dei Conigli. Nella cala più conosciuta dell'isola si trova una villa già dei proprietà di Domenico Modugno. Berlusconi sarebbe intenzionato ad acquistarla. Resta da capire se rinuncerà alla Villa Due Palme, già comprata nei giorni scorsi. Nel corso della vista del Premier sull'isola sono arrivati altre due carrette del mare, cariche di disperati. Gli sbarchi, così come i trasferimenti, continuano. Nel pomeriggio, approdata a largo di Porta Empedocle, la nave San Giorgio della Marina Militare, che la scorsa notte a Lampedusa ha imparcato 285 immigrati di varie nazionalità. La nave non ha potuto attraccare all'interno del porto e il trasporto dei migranti è stato effettuato con mezzi anvipi.